Ciao a tutti, bentornati! Oggi ho un bel bustone di prodotti terminati da mostrarvi. Sono un bel po' di cose, in questi mesi infatti ho accumulato un po' di prodotti e mi sono resa conto appunto che era il caso di fare appunto un video di prodotti terminati. Molti di questi prodotti li conoscete, li avete già visti sul mio canale, ma in questo video vi dico se nel caso di acquistarli, o meglio se io li riacquisterei oppure no, partiamo subito dal primo prodotto che è questo gel detergente in olio, o meglio un detergente oleoso di REN. È un detergente che a me è piaciuto tanto, grazie a questo prodotto mi sono avvicinata alla doppia detersione. È un detergente secondo me comodo per chi non ama fare troppi step, strucca il trucco benissimo, appana soltanto un po' gli occhi, ma in realtà è sopportabile. La cosa bella di questo prodotto è che potete usare soltanto lui per fare la doppia detersione, ciò significa che è vero che si presenta in gel, emulsionato sulla pelle diventa olio, e una volta invece emulsionato con l'acqua diventa schiuma, quindi non dovete comunque passare poi allo step schiumogeno, perché questo prodotto ha tra tutte e due le fasi. E questa cosa, soprattutto come dicevo prima, per le persone un po' più pigre, trovo che sia comodissima. Altro prodotto di REN terminato è questa crema idratante della Global Protection Day Cream. L'ho terminata fino all'ultima goccia, forse da qui si può notare, in realtà non l'ho amata particolarmente, cioè questa non l'acquisterei, per il semplice fatto che secondo me per la mia pelle è troppo ricca. Tanto che fa fatica anche ad assorbirsi, quando la stendete dovete comunque lavorarla un po' affinché venga assorbita, altrimenti lascia comunque delle striature, e quando io trovo quelle creme difficili anche da stendere, io non le amo particolarmente, perché mi piacciono le creme che si assorbono subito, facili da stendere, e che la pelle appunto quasi le mangi. Questa crema invece mi ha... non vedevo l'ora che terminasse, devo dirvi la verità, e quando un prodotto che mi piace sta per terminare, mi dispiace, invece di questa crema non ho avuto la stessa sensazione, quindi io personalmente non le riacquisterei. La consiglio, se dovessi consigliarla, le pelli molto secche, secondo me a quel tipo di pelle va bene, perché è molto idratante, io l'ho utilizzata prevalentemente come crema giorno, ma come vi dicevo non le riacquisterei. Altro prodotto terminato è questo tonico di Rodial alla vitamina C, questo qui è un tonico esfoliante, proprio perché appunto è alla vitamina C, è un tonico che io ho utilizzato alternandolo, non l'ho utilizzato tutti i giorni, non utilizzo i tonici esfolianti ogni giorno, li alterno comunque due volte a settimana massimo, tre, questo tonico mi è piaciuto tanto perché è un effetto illuminante quasi immediato, ha una fragranza buonissima, non è per niente aggressivo, se non amate le fragranze non vi piacerà, io che le preferisco mi è piaciuta tanto. Ha un effetto anche quasi leggermente astringente, avete all'inizio una sensazione di, per pochi secondi, pizzicore, ma non fastidioso, secondo me proprio perché il prodotto va ad agire, ma è proprio lieve, ma per il resto è un tonico che mi è piaciuto tantissimo, infatti il mio formato era abbastanza grande, da 200 ml, l'ho terminato diciamo in questi mesi, lo riacquisterei, peccato il prezzo perché costicchia parecchio. Altro prodotto terminato è il booster di Skin First alla neacinamide, in realtà non so esattamente quanto è percentuale di neacinamide ci c'è all'interno perché non è indicato, se non ricordo male penso ci sia il 5%, vi ho già detto che la neacinamide ha diverse funzioni, tra le quali i pori dilatati, aiuta a ridurre i pori dilatati, a schiarire anche le macchie, ad avere un incarnato un po' più levigato, a migliorare la grana della pelle, a regolarizzare il sebo, secondo me questo booster in particolare mi ha aiutato soprattutto per il sebo, cioè mi ha aiutato a regolarizzare il sebo in eccesso. L'effetto leggermente più luminoso è di schiarire le macchie, sì, devo dire che anche lì ha fatto il suo lavoro, per quanto riguarda invece i pori penso che non abbia fatto un gran lavoro, però è un booster che non mi è dispiaciuto, anche perché eliminare i pori dilatati è praticamente impossibile, certo si possono leggermente minimizzare, ma farli scomparire no, secondo me non è proprio possibile, però io lo riacquisterei perché è un prodotto che mi è piaciuto. Altro prodotto terminato è il fondo di Catrice, l'HD Liquid Coverage, io ce l'ho nella colorazione 020 Rose Beige, è un fondo che io amo, è un fondo che sicuramente io riacquisterò, perché mi piace come tiene la pelle, cioè come si mantiene sul viso, non lucida, è un fondo leggero e stratificabile, levica un sacco la pelle, non fa venire fuori lucido in eccesso, è un fondo low cost, ma secondo me dalle performance quasi simili a un fondo high cost, è molto performante, mi piace tantissimo, ve l'ho già mostrato tantissime volte, ha questo erogatore a contagocce, e mi piace proprio perché è facile anche da applicare, è semplicissimo da stendere, potete scegliere voi se avere un effetto più coprente o meno coprente, ha un effetto non matt, cioè la cosa che mi piace tanto, che piace a me personalmente, avere questo tipo di effetto, è un effetto luminoso, ma allo stesso tempo non lucido, che è ben diverso, e che me lo fa amare, quindi assolutamente io lo riacquisterò sicuramente. Altro prodotto terminato, sempre di make up, andiamo un po', alterniamo, make up e skin care, è questo mascara di Too Faced, il Diamond Girl, questo qui ad esempio io l'ho amato, l'ho amato più della mascara, sempre di Too Faced, il Better Than Sex, se vogliamo paragonarli, mi piace di più perché ha questo scovolino, a clessidra, che mi piacciono tanto, perché mi aiutano, secondo me, questo tipo di scovolino, sia ad andare nelle zone un po' più scomode, tipo gli angoli, mi piace l'effetto super incurvato, non fa per niente grumi, volumizza un sacco le ciglia, le distiche, è proprio un mascara, che a me personalmente, dà tutto quello che io cerco da un mascara, mi dispiace averlo terminato, adesso ho tanti altri mascara da terminare, però io lo riacquisterei, lo consiglio, soprattutto se avete delle ciglia sfigate come le mie, perché è fantastico. Altro prodotto terminato, da pochissimo anche lei, è questa crema di Clinique, la Most Your Surge 72 ore, è una crema, come vedete, praticamente terminata, proprio vuoto il tubetto, questa qui in realtà è una versione piccolina, da 15 ml, infatti questa crema termina, cioè questo formato, io l'ho acquistato diverse volte, mi termina in un mesetto circa, però avendo tantissime creme da provare, mi va anche bene, è una crema che mi piace, perché ha una consistenza leggera, ma allo stesso tempo molto idratante, penso ci sia anche la versione per pelli grasse, se non sbaglio, o per pelli secche, questa qui invece per pelli miste, l'altra versione ha una consistenza più pesante, più corposa, questa qui è proprio gelatinosa, ma che si assorbe subito, e vi garantisco che avete la pelle idratata, ma vi mantiene comunque la pelle, c'è il sebo, non viene fuori, e mi piace tanto, la consiglio e la straconsiglio, mi piace da morire, altro prodotto terminato, ho finito diverse maschere, magari ve le mostro tutte insieme, allora, c'è la maschera in tessuto viso, di Dr. D, Dr. Jart, questa qui è super idratante, io ho acquistato dal sito, YesStyle, il pacco da 5, vi garantisco che, comprare queste maschere da quel sito conviene, rispetto magari a Sephora, perché costano molto meno, penso che una maschera, cioè il pacco intero costi, non so dirvi quanto, ma credo sulle 5-6 euro, rispetto magari a una singola maschera, che da Sephora l'ha pagata 3-4 euro, per farvi capire, secondo me conviene un sacco, mi piace tanto perché è una maschera intensa, ma idratante, io, diciamo, dalle maschere in tessuto, chiaramente non mi aspetto miracoli, però, come effetto momentaneo, istantaneo, mi piace avere questa pelle, molto rimpolpata, e molto idratata, sempre maschere, diciamo patch in tessuto, questa qui di Starskin, che è la Eye Catcher Smoothing, questa qui è una, sono dei patch in cellulosa, che non mi hanno, cioè mi sono piaciuti, l'effetto anche qui, è un effetto istantaneo, cioè momentaneo, non vi sgonfia, chissà quanto, vi idrata particolarmente il contorno occhi, ho trovato anche un contorno occhi più luminoso, quello sì, e mi sono piaciuti, ho provato anche questi patch, di Patchology, alla Cannabis, questi non mi hanno fatto impazzire più di tanto, ho notato che subito si sono attaccati al contorno occhi, ma quando li ho tenuti in posa, di solito io noto un effetto quasi rinfrescante, rigenerante, qui non ho notato, quell'effetto lì, anzi, secondo me, la pelle ha, cioè il contorno occhi ha assorbito immediatamente il siero, e dopo avevo proprio il patch, quasi caldo, cosa che a me insomma non fa impazzire, preferisco avere sempre quell'effetto un po' fresco, freddo, che mi aiuta anche per quanto riguarda il gonfiore, non li riacquisterei, ecco. Andando avanti con la Skin Care, questo gel detergente di First Time Beauty, questo qui è il Pure Skin Face Cleanser, allora questo detergente non è male, secondo me per la mia pelle non è il massimo, è un detergente molto delicato, si presenta quasi cremoso, e poi diventa schiuma miscelato con l'acqua, io lo consiglio alle pelli particolarmente, particolarmente grasse, all'interno dovrebbe avere anche ceramidi, se non sbaglio, quindi è anche molto idratante, io la cosa che ho notato, non lo so, è una sensazione mia, è che quando l'ho applicato, cioè subito dopo averlo applicato, la pelle leggermente un po' mi tirava, ma leggermente, proprio perché secondo me, è più indicato per le pelli, molto, cioè particolarmente grasse, io una pelle mista, certo sì, non mi è dispiaciuto, ma io personalmente non lo riacquisterei, è molto amato, però io non, sì, l'ho terminato, certo, perché io cerco di terminare tutti i prodotti, cerco di non sprecare nulla, però, ecco, per la mia pelle no, per le pelli grasse, io lo consiglio. Altro prodotto terminato, di skin care, è questo siero di Younique, ed è il siero, la propolis e la vitamina C, questo qui è un siero, è un formato piccolino, da 15 ml, l'ho terminato in pochissimo tempo, mi è piaciuto, la propolis, tra l'altro, quando l'ho acquistato, ho fatto un po' di ricerche, è un ingrediente, sia, vabbè, illuminante, idratante, ma aiuta anche le imperfezioni, quindi la propolis è un ingrediente, che va benissimo, anche per le pelli acneiche, perché va a ridurre le infiammazioni, e infatti, quando io avevo dei brufoletti in più, delle imperfezioni in più, questo siero mi ha aiutato anche a attenuarle leggermente, il che, insomma, se devo consigliare a qualcuno che soffre di pelle acneiche impura, questo ingrediente, questo siero, va benissimo, secondo me, l'ho trovata anche questo qui su YesStyle, l'ho preso in realtà in un cofanetto, dove c'era questo siero, e anche il contorno occhi della stessa linea, che mi piace, lo sto utilizzando, lo riacquisterei in formato anche full, perché è un siero, secondo me, utile, per quanto mi riguarda, soprattutto per quando la pelle è un po' più imperfetta, quando ho delle imperfezioni in più, all'interno ha anche vitamina C, quindi ha anche un effetto illuminante, che non guasta mai, poi, altro prodotto terminato, finalmente, è un prodotto capelli, questo qui è il prodotto di Kerastase, della linea Resistance Extensionist Thermic, in realtà, è un termoprotettore, che io ho terminato, dopo quasi un anno, questo qui è da 150 ml, io l'ho, infatti, utilizzato da, forse, febbraio scorso, fino a, due mesi, forse, due mesi fa, quindi quasi un anno, è un formato bello grande, ma di questo prodotto, io utilizzo ora, veramente, una noce, soprattutto per le lunghezze, mi ha aiutato, infatti, soprattutto a proteggere i capelli, dal calore, infatti, negli ultimi tempi, io che soffro tantissimo, di doppie punte, sia grazie a lui, ma anche ad altri trattamenti, tipo, la Plex numero 3, che mi aiuta, soprattutto a chiudere, le doppie punte, e ad evitare, ad evitare che i capelli si spezzino, utilizzando anche un prodotto, che mi protegga dal calore, mi aiuta anche ad evitare che, il capello stesso si spezzi, quindi io personalmente, non posso non utilizzare, un termoprotettore, questo qui, infatti, a me è piaciuto tanto, e lo riacquisterei sicuramente, il prezzo non è proprio basso, però, è un prodotto che mi piace. Poi, 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 sempre per capelli, e infatti, come vi dicevo prima, ho la Plex numero 3, questo qui è un prodotto, che avevo già detto, ridetto e stradetto, che nella mia hair care routine, non può mancare, io che, come vi dicevo prima, soffro un sacco, di doppie punte, perché i capelli molto sottili, questo prodotto, lo applico come, prodotto trattamento, una volta a settimana, o ogni due settimane, lo tengo in posa, il più possibile, a volte l'ho tenuto in posa, anche tutta la notte, il consiglio è, tenerlo in posa, il più possibile, oltre a chiudervi le doppie punte, vi lascio i capelli, come se fosse roseta, luminosi, è proprio una mana dal cielo, è un prodotto che io, consiglio a chiunque, anche a chi non ha i capelli, particolarmente danneggiati, ma per chi avesse i capelli, particolarmente danneggiati, è un prodotto, che vi aiuterà sicuramente, a me personalmente, aiuta tantissimo, infatti, non posso farne a meno, ho infatti acquistato, la nuova voccetta, perché, necessito almeno, almeno, due volte al mese, di fare un impacco, strong, di Olaplex numero 3, sempre per capelli, ho terminato, anche queste, ma diverso tempo fa, queste compresse, integratori, della, My Vitamins, in realtà, sono compresse, che aiutano, sia i capelli, che le unghie, come vi ho già detto in passato, io non sono molto favorevole, a questi, diciamo, a questi integratori, utilizzati per, due settimane, io ritengo che gli integratori, vadano, utilizzati a ciclo, io questa l'ho trovata, infatti, all'interno di una box, e all'interno, c'erano 30 capsule, ma da assumere, due al giorno, quindi, in realtà, 15 giorni totali, secondo me, un utilizzo simile, non è efficace, o meglio, non si vedono bene, i benefici di un integratore, soprattutto per capelli, preferisco, magari, fare un ciclo da 3, 4 mesi, 6 mesi, insomma, dipende, tanto che, non so dirvi, ecco, non so dirvi, che, quali benefici, mi ha portato, questo, questo prodotto, quindi, insomma, non lo so, ecco, vi lascio così, col dubbio, passiamo adesso, a un prodotto corpo, ed è un, gel doccia, di Molton Brown, questo qui, è il primo prodotto, di Molton Brown, che ho provato, devo dire, che questi, vanni o schiuma, sono fantastici, questo qui, l'ho terminato, ed è il, la fragranza, al Cypress, Cypress and Sea Funnel, che, questa fragranza, molto forte, quasi maschile, però, a me piace, è piaciuta tantissimo, e, devo dire che, questi bagno schiuma, si sentono, sono molto persistenti, ora, sto utilizzando, quello, nella versione rosa, che dovrebbe avere, cioè, ha una fragranza, più floreale, un po' più femminile, rispetto a questa qui, però, questa non mi è dispiaciuto, per niente, non sono, bagno schiuma, proprio, economici, le ho trovati, nelle, in alcune box, di look fantastic, diciamo che, se le ritrovassi, ritrovassi, questi bagno schiuma, sarei felice, non so se li acquisterei, proprio per il prezzo, però, mi piacciono tanto, ecco, se devo dire la mia, sono, sono molto buoni, molto validi, sempre corpo, invece, ho terminato anche, dopo diverso tempo, di ritual, questo olio doccia, io non amo particolarmente, gli oli doccia, preferisco il gel doccia, dove c'è schiuma, dove si vede che, mi pulisce bene, gli oli doccia, mi sembra di, metterli sul corpo, e di perdere, completamente il prodotto, e ho l'impressione, che non, che non vada a pulire, non lo so, non li amo particolarmente, la fragranza, è molto buona, molto fresca, ma delicata, però, insomma, gli oli doccia, non, non li amo, quindi, no, no. Altro prodotto corpo terminato, è questa crema corpo, del brand Ahava, è la, This Sea Water Mineral Body Lotion, ed è una crema corpo, che mi è piaciuta tanto, l'ho utilizzata, prevalentemente d'estate, questo per farvi capire, da quanto tempo, io sto accumulando, questi prodotti, mi è piaciuta tanto, perché, oltre ad avere, una fragranza buonissima, quando io ho applicato, questa crema, o applicavo questa crema, non applicavo, non utilizzavo profumi, proprio perché la fragranza, mi piaceva tanto, proprio persistente, buona, fresca, estiva, buonissima, anche il modo di applicazione, è molto, molto facile, non mi lascia striature, quindi, non, non quelle creme, molto corpose, quindi, da lavorare, stare lì, magari, a farsi massaggi, sulle gambe, no, semplicissime da, semplicissima da, da applicare, quindi, è una crema corpo, che io, ho quasi divorato, l'ho terminata, infatti, in pochissimo tempo, forse, in due settimane, però, mi è piaciuta tanto, anche un effetto fresco, sulla pelle, bella, bella, poi, altro prodotto terminato, che io ho amato, è questa crema di Elemis, della Pro Collagen Marine Cream, che fortunatamente, ho anche in versione full, che a breve, tornerò ad utilizzare, perché devo terminare altri prodotti, non vedo l'ora di utilizzare, l'intero set, di questa, di questa linea, sia della crema giorno, la crema notte, anche il prodotto, struccante, oleoso, cioè, o meglio, un burro, che ho trovato all'interno, di una box, della box di San Valentino, di Look Fantastic, lei mi è piaciuta tanto, ha proprio, quando io applicavo questa crema, un effetto rimpolpante, c'è, una, una toccata di, di freschezza, di, di vitalità, e mi è piaciuta tantissimo, ha anche un effetto anti-age, aiuta anche un po' le borse, non le borse, le rughette, io direi, un effetto rimpolpante, e lo avvertite proprio, nel momento stesso in cui, applicate questa crema, avete proprio la sensazione, di pelle più rimpolpata, e, è una crema che io, amo, amo, questa qui, da 15 ml, l'ho terminata in poco tempo, e non vedo l'ora di ritornare, ad utilizzare, la versione full, della stessa crema, altro prodotto terminato, per capelli, è questa maschera, di Grow Gorgeous, ed è una maschera, prettamente, indicata per capelli danneggiati, questa è una maschera, non pre-shampoo, ma da utilizzare, subito dopo lo shampoo, e da risciacquare, poi subito dopo, è una maschera, che mi è piaciuta, questa qui, da 30 ml, mi è piaciuta, perché, ho trovato, quando l'ho applicata, trovavo i capelli, molto più, luminosi, quasi più forti, cioè, più riparati, ecco, e peccato che, l'ho terminata in poco tempo, perché da 30 ml, l'ho applicata, prettamente, sulle lunghezze, io le maschere, per capelli, soprattutto quelle, non pre-shampoo, le applico, soltanto sulle lunghezze, però mi è piaciuta, perché davvero, secondo me, dà un effetto di, almeno questa qui, è della, infatti, si chiama Repair, ed è prettamente, aiuta soprattutto, i capelli, secondo me, danneggiati, e la, sicuramente, la riacquisterei, la riproverei volentieri. Altro prodotto terminato, questa qui, invece, è una crema con tornocchi, è del brand Madara, questa qui, è la Time Miracle Wrinkle Resist, e Madara, tra l'altro, è un brand, vegano, cruelty free, e, mi è piaciuta, soprattutto, per l'effetto, idratante, che mi, mi lasciava sul contorno occhi, non ho notato, grandi miracoli, da questa crema, però, quando cercavo, una idratazione, un po' più importante, questa crema, anche la stessa consistenza, nella crema, molto leggera, io preferisco, infatti, le creme con tornocchi, leggere, non molto corpose, quasi gelatinose, questa qui, è una crema, che comunque, si assorbe, quasi immediatamente, sul contorno occhi, e allo stesso tempo, questo effetto, idratante, riesce a darvelo, quindi, è una crema che io, sì, riacquisterei volentieri, non aspettatevi miracoli, però, a me è piaciuta, altro prodotto terminato, anche di questa, vi ho parlato diverse volte, di Filorga, è una maschera viso, questa qui, è la Time Filler, ed è una crema, ed è una maschera, che mi è piaciuta tantissimo, è una maschera, secondo me, molto rimpolpante, e anche illuminante, la stessa, consistenza, della maschera, molto sottile, per niente, aggressiva, non secca mai, tipo, molte, molte maschere, capita, che tendono a seccare, a tirarvi il viso, questa maschera, anche dopo 15-20 minuti, non vi lascia la pelle, di gesso, assolutamente, resta comunque leggermente, chiaramente si asciuga, ma non secca, cioè non diventa dura, tipo le maschere in argilla, che chiaramente, per come sono composte, tendono a diventare più solide, questa crema no, mi piace, mi è piaciuta soprattutto, per l'effetto illuminante, io quando infatti, rimuovevo questa maschera, avevo la pelle, con più luce, e mi è piaciuta, la riacquisterei, in formato anche più grande, volentieri, qui ci sono invece, dei formati, troppo piccolini, per essere, insomma, per capire un po' gli effetti, vediamo un po', allora, tipo, di questa, di questo prodotto, di Sunday Relay, di Sunday Relay, che avrei voluto, in formato full, è il siero, col 15% di vitamina C, ad esempio, questo siero, è troppo piccolo, ed è da, 5 ml, non so dirvi più di tanto, proprio perché, un prodotto del genere, secondo me, va utilizzato, per più giorni, per più tempo, per essere anche capito, quindi, non so dirvi più di tanto, è vero che, io avevo la percezione, di pelle, rimpolpata, quello sì, è un siero, non proprio, non molto acquoso, quasi cremoso, ma abbastanza leggero, che si assorbe, immediatamente, vorrei provarlo, in formato full, perché, Sunday Relay, è un brand, che, vorrei provare, tipo, vorrei provare, i sieri, vorrei provare, anche i sieri oli, oli in siero, vorrei provare, diverse cose, di questo brand, però, questo qui, ecco, per la, per quanto l'ho utilizzato, non posso dirvi, granché, non posso dirvi, quello che penso, a 360 gradi, vorrei soltanto, provarlo in formato full, questo posso dirvi, nient'altro, poi, 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 altra cosa, che ho provato, questo prodotto, di Bare Minerals, anche qui, è un siero, questo qui, ad esempio, mi è piaciuto tanto, per la consistenza stessa, del siero, gelatinoso, ma, si assorbe, subito, immediatamente, per farvi capire, questo qui, si chiama, Skin Longevity, Vital Power Infusion, questo, io notavo, quando lo applicavo, una pelle, super rimpolpata, proprio, come mi lasciava la pelle, mi piaceva, cioè, appena applicato, ricordo, che avevo la pelle, proprio più fresca, più rimpolpata, dovrebbe avere, all'interno, acido, gialuronico, credo, non ricordo bene, comunque, è un, è un siero, abbastanza strong, è abbastanza concentrato, e, questo qui, ricordo, che mi è piaciuto, particolarmente, poi, altro prodotto, terminato, è questa mist, di Balance Mia, l'acido gialuronico, io, in realtà, non utilizzo, molto le mist, per non aggiungere, troppi step, alla skin care, questo qui, l'ho trovato all'interno, di una box, e l'ho, chiaramente, l'ho utilizzato, all'interno, il 99,9% di ingredienti naturali, l'ho utilizzato, prettamente, come prodotto, rinfrescante, idratante, avendo all'interno, acido, gialuronico, questo qui, io, l'ho utilizzato, sia all'interno, della skin care, cioè, immediatamente, dopo la detersione, quindi, dopo aver pulito il viso, prima di applicare il tonico, ci applicavo, anche questa, questa mist, per dare un tocco, di idratazione, il primo step, di idratazione, e, però, non sono una grande, fan, delle, delle mist, se non, d'estate, quando fa troppo caldo, anche, d'inverno, quando la pelle, è particolarmente secca, da portare in borsa, per avere un attimino, un tocco di, di idratazione in più, però, ecco, non è un, un prodotto che io, acquisto e acquisterei, devo esservi sincera, altro prodotto terminato, anche qui, in formato mini, di Shiseido, ed è un siero, concentrato, si chiama, Ultimune Power Infusion Concentrate, ed è un, un siero, concentrato, di questo, vorrei provare la versione, più grande, anche perché, anche qui, con un formato da 10 ml, che mi è terminato in, due, una settimana, due, l'ho utilizzato, sia mattina che sera, ricordo, mi piace, mi è piaciuta molto, il modo di, di essere assorbito, dalla pelle, pur essendo, non proprio, non troppo acquoso, di solito, io, io personalmente, noto che, i sieri, simili, acquosi, si assorbono, chiaramente, immediatamente, quelli un po' più, corposi, un po' più, gelatinosi, impiegano, un po' meno, ho notato, che questo siero, invece, si assorbiva, quasi subito, però, non so dirvi, granché, anche di questo, questo, infatti, vorrei provarlo, in formato full, come vorrei provare, in formato full, questo prodotto, di Sunday Relay, che non è altro, che, in realtà, un trattamento, all'acido glicolico, che è una via di mezzo, anche per la stessa consistenza, tra un tonico, e un siero, ma è anche esfoliante, perché, la consistenza, è acquosa, ma, diciamo, lattiginosa, non proprio acquosa, e questo, quell'esempio, volevo provarlo, chiaramente, l'acido glicolico, aiuta soprattutto, a migliorare, il tono della pelle, quindi, a migliorare, l'incarnato della pelle, a dare più luminosità, questo qui, vorrei provarlo, in formato full, volentieri, come vorrei provare, tutti i prodotti, di Sunday Relay, in realtà, infine, ultimo prodotto, terminato, anche qui, in formato piccolino, da 7 ml, del brand, Balance Me, ed è un siero, contro la luce blu, quindi, che aiuta soprattutto, i danni dati, dalla luce blu, quindi dai cellulari, dai computer, mi è piaciuto, perché è un siero, molto leggero, io lo utilizzavo, prettamente la sera, associandolo, ad un altro siero, io ad esempio, quando non ho dei sieri, troppo forti, troppo strong, più o meno leggeri, tendo anche ad associarli, non è neanche sbagliato, abbinare più di un siero, anzi, secondo me è possibile, cioè, si può fare benissimo, a meno che voi, non utilizzate, dei sieri, con, per dirvi, degli acidi, in quel caso, fate attenzione, ma se all'interno di un siero, ci sono ingredienti, anche come acido, ialuronico, potete benissimo, anche associarlo, ad un altro siero, che non abbia, chissà quali ingredienti, strong e forti, io, lo consiglio, anzi, si può anche abbinare, acido ialuronico, con vitamina C, potete farlo benissimo, anche perché, sappiate che l'acido ialuronico, non è un acido, e si può abbinare, praticamente, quasi a tutto, è come il nero, va bene su tutto, ci sta, sempre, e, ritornando a questo, a questo siero, non mi è dispiaciuto, soprattutto per la consistenza, e per il tipo di, sì, per quanto, diciamo, fosse leggero, in realtà, io vorrei provare, altri sieri, io comunque, altri prodotti, che aiutano, e vanno a contrastare, i danni, da luce blu, anche perché, noi che siamo sempre a contatto, con cellulari, computer, secondo me, è bene anche, prevenire, e andare a contrastare, quel tipo di danno, e, nulla, io ho terminato, con i miei terminati, non erano pochi, molti, erano anche, i formati, piccolini, però, chiaramente, io, avendo, un po' di cose accumulate, preferisco, terminare prima, i prodotti, piccolini, i formati piccolini, e poi, concentrarmi, sui formati full, insomma, studiarmeli per bene, e, nulla, spero di, avervi tenuto compagnia, mi raccomando, iscrivetevi al canale, se non siete iscritti, e passate chiaramente, nella mia pagina Instagram, e, nulla, scrivetevi nei commenti, se, ci sono, dubbi, domande, perplessità, fatemi sapere anche, se conoscete questi prodotti, se vi piacciono, se, insomma, come me li, riacquistereste o meno, e nulla, io, come sempre, vi mando un bacio, e ci vediamo presto, ciao! Ciao!